Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotrico Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico anche questa puntatona dal colore scrittura creativa la progettazione narrativa dei grandi autori di fantascienza Philip A. Dick The Scout, il Teschio, Words of Diff 1952 Fabula Permutazione di Mercier del Viaggio del Tempo declinato nel remake Viaggio del Passato con presenza di Paradosso 1934 Amazing Stories, The Time Tragedy intreccio lineare quello di Dick del Teschio con un colpo di scena incentrato sul paradosso temporale narratore esterno non onnisciente e invisibile focalizzabile sui personaggi il tentativo di costruire empatia con il personaggio principale è scarso c'è però la curiosità di vedere come finisce la caccia svolta dal personaggio principale con piccoli indizi disseminati nel racconto che possono suggerire al lettore l'esito la chiusura non è logicamente eccezionale ho dovuto riadattare un pezzo di fabola nella traduzione perché lo spiegone del discorso indiretto libero era logicamente incoerente Format è un racconto di sci-fi che oggi sarebbe classificato come molto lungo tanto da essere un vero e proprio libro ci sono pochi elementi di black box tecnologica manca l'info dump per dare coerenza alla fabola è de facto fantascienza allontana quasi fantasy e non arbi sci-fi per questo puntato è tutto un saluto ciao alla prossima